E allora siamo alla seconda corsa, il premio Sogliola, 2000 metri per tre anni, non vincitori, 7500 euro in carriera. Numero uno, El Trinche con Giustino Panico, due, Esther Pan, Eduardo Bacalini, tre, Elsa Rossinelli, Roberto Vecchione, quattro, Entrapment Call, Roberto Ruvolo, cinque, Elohim di Venere, Giusy Savarese, sei, Hermes Storr, Walter D'Ambrogio, sette, Erice Mail, Emanuele Pettinari. Rimane molto indietro proprio quest'ultimo. Intanto si va allo stacco con un po' di lotta per il comando, Elsa Rossinelli che prova a tenere la testa nei confronti di Elohim di Venere. E così i due a confronto quando si è passato proprio il palo con Elsa Rossinelli che rimane all'interno e rimane davanti. La seconda posizione alla corda che è presa dal numero due di Esther Pan e così è rimasta di fuori Elohim di Venere a mezza strada tra i primi due. Poi la seconda paliglia che viene presa da Entrapment Call che a questo punto va a cercarsi la schiena di Elohim di Venere. Intanto i 400 al palo a metà dito opposta vanno via in 30 a un filo scarsi con Elsa Rossinelli al momento in controllo. Mentre Elohim di Venere ora si è adeguata e prova a venire addirittura in terza corsia Entrapment Call mentre alla corda rimane Esther Pan. Si va adesso al completamento della seconda curva con Entrapment Call che a gira Elohim di Venere va sulla battistrada con una cadenza abbastanza sostenuta. Cerca di ovviamente mettere in ambasce la figlia di Adrian Chip che replica prontamente tant'è che si arriva alla chilometro in 1,15 e mezzo. E così le due protagonisti annunciati che sono fianco a fianco all'imbocco della piegata di destra con all'interno Elsa Rossinelli e all'esterno Entrapment Call. Più indietro a distanza Esther Pan con Elohim di Venere che ha ripiegato in quarta posizione. E si va ora di fronte con Entrapment Call che sembra poter sopravvanzare l'avversaria. E così è al paletto degli ultimi 600 metri. Un 31 per i 400 al palo metà da dritto opposta sullo slancio guadagna almeno un paio di lunghezze. Entrapment Call che così affronta la piegata al comando nei confronti di Elsa Rossinelli. Dietro c'è il vuoto quando si va al completamento della piegata. Con Entrapment Call che prosegue di buona lena un paio di margine. Prova a riaccorciare ora Elsa Rossinelli su Entrapment Call che forse ha speso un po' ma intanto si mantiene in evidenza. Sembra anche in grado di replicare Entrapment Call ai 100 conclusivi che è comunque saldo leader. Entrapment Call che viene a concludere nei confronti di Elsa Rossinelli mentre al terzo posto si piazza Elohim di Venere. Ci sono 47 abbondanti per gli ultimi 600 metri quindi parziali pochino lenti nell'ultima fase di gara. 2,33 scarsi per i 2.000 metri nell'ordine dell'1,16 abbondante la media al chilometro per Entrapment Call. Roberto Ruvolo al Sulchi, Daniele Quarneti al training e i colori della scuderia Sunrise. Eccole qui le immagini del figlio di Espo a caffè Rochelle che viene a concludere sul palo precedendo Elsa Rossinelli che così perde la sua imbattibilità. 4 per il primo, 3 per il secondo e il numero 5 di Elohim di Venere al terzo. È tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.